Samantha Cristoforetti torna finalmente nello spazio, una partenza riuscita per quanto riguarda la navetta chiamata Dragon Freedom, con a bordo ben quattro astronauti, tra cui proprio la stessa Samantha. La navetta adesso andrà a raggiungere la stazione spaziale internazionale, con la Cristoforetti a bordo ci sono anche Kiel Lynchian, Jessica Watkins e Robert Ines Hines. E' un momento buono per Samantha Cristoforetti, immagino nella mia ipotesi che si troverà molto bene a tornare di nuovo nello spazio come è accaduto poco tempo fa. Un momento insomma bello a mio avviso, ripeto di nuovo, per questa giovane donna in gamba, intelligente, carismatica, colta, simpatica e molto molto piacevole. Bene, colponenti dunque a lei, lo ritorno, ripeto, nello spazio, vi lancio alle 9.52, l'italiana e la navetta ha lasciato Kieb Caneval. Vi ringrazio per l'ascolto, il bio termine è qua, ciao al ruolo italiano di Youtube Italia, ciao a tutti.